Ciao a tutti i tifosi di HitFootball! E' una giornata bellissima perché abbiamo alzato un trofeo e stavamo perdendo 1 a 0. Sicuramente dopo la squadra è rimasto in partita e fare questi due gol prima di finire il primo tempo è stato importante per andare all'intervallo in vantaggio. Un finale di Coppa e abbiamo vinto in più tempo. Gli vincere trofei è sempre bello, è una buona memoria. Abbiamo vinto una penalti per noi. E' un'importante perché è stato 2-2 in questo momento. E' un'altra tempo. E' un'altra domanda. 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 Anche penso l'ya ultima il terreno di l'Inter. Ho ancora devo pensare a chiamare perché comunque funziona il mio migliore, ma ancora io faccio il mio знambito. Allora, vengo rimbettavуемa di doogna in due Coppa, ma non possa portarlo, quindi si tr Cit Qui risposteva in modo stormandièrement. Mi insegno un'altra cosa. Non mi ricordo cosa sembra che la coppia sembra. Il mio focus, la mia concentrazione è sempre molto alta. Il drawing è ora anche una delle qualità. Non mi piace parlare di me stesso. Dio un giocatore. La concentrazione e poi il gol. Il drawing è una cosa buona, ma non è la mia migliore qualità. Allora, mettiamolo così. Sei giocatore, ma sei sicuro che devi scrivere con il tuo giocatore? Mi preferisco il mio giocatore. Vincere anche qualcosa nel futuro come l'autore artista? Questo non credo, però cercherò sicuramente di migliorare sul disegno. Che ho scrivuto? Prima di tutto, la mia signatura in orange. Anche alcune stelle oranze con la flag della nazionale nazionale. e poi alcune stelle oranze con l'Inter. E poi una coppia falsa con il numero uno. Questa è la mia firma classica di autografi. Faccio sempre con il numero. Quando vado ai nazionali, certamente vinto il 22. Questo è una data e un risultato importante dell'Inter-Milan. Quando abbiamo vinto 1-0, dove ho fatto gol io. Questo è il mate che mi accompagna sempre, in ogni momento. Come vedete, sono le coppia che ho vinto con l'Inter. La mia nazione, che sono orgoglioso. E non lo so se potete vedere qui. Ho cercato di signare il mio migliore gioco. In midfield. La mia big time card è disponibile in eFootball2024. Il tuo sogno ha bisogno di un defendatore solidale. Perchè lo andate in-game, ora. Ho spero che voi piacciono la mia card. Credo che è bellissimo. Tu ti hanno bisogno di un attacante di tale in il loro dream team. Non lasciatevi scappare la mia big time card. Il tuo sogno ha bisogno di un midfiltro che può scopare e assistare. Perchè lo andate in-game, ora. Ciao. Ciao.